Salve a tutti ragazzi, sono Mattex e bentornati in questo nuovo episodio della carriera di autore con il Venezia qui su E22. Oggi avremo tre partite giocate, giocheremo Genk, Borussia Dortmund e Torino. In mezzo al campionato simuleremo probabilmente la gara contro il Bologna e le amichevoli internazionali. Qui vedremo poi un po' che fare in realtà con la Polonia, se magari andar via, se aspettare la chiamata dell'Italia oppure se concentrarci unicamente sul Venezia e aspettare magari la chiamata dell'Italia. Nel prossimo episodio probabilmente ci vedremo tutto dicembre, quindi giocando Milan, Sassuolo e Juventus sperando di poter simulare in maniera tranquilla Salernitana e Nizza. Non simulare la gara contro il Genk che sarebbe potenzialmente quella più facile sulla carta, semplicemente perché voglio avere la qualificazione in tasca. Una volta avuta la qualificazione in tasca, potenzialmente magari anche come primo andare magari a simulare. Vediamo come va oggi contro il Genk, la prossima volta contro Borussia Dortmund e poi ne parleremo. Non faccio la conferenza stampa per partita perché tendenzialmente ci porta sfortuna. Vediamo come va, ci vediamo in game con le grafiche per le formazioni. Il nostro girone attualmente ci vede primi con 9 punti, 12 gol fatti 6 subiti, secondo Borussia Dortmund con 4, terzo Nizza con 3 punti, ultimo il Genk con 1 punto. Ma non dobbiamo sottoproduttare, abbiamo visto nella scorsa partita che sono davvero molto pericolosi quando vogliono. Bellissimo, bellissimo. Spogliatoio del Venezia per la gara di Champions League con un gran level up. The Champions! L'urlo del Penzo per il Venezia comincia una nuova partita di Champions League. Odero tra i pali, Lovato, Centralin, difesa Carboni e Omamidele a supporto. Kessime, Kenny, Bernadeschi, Elcerawi e Rafinha a centrocampo. Pululu ed Esposito. I due attaccanti per un Venezia che sta sognando gli ottavi di Champions League. E lì, perché ha 9 punti, 3 su 3. E oggi proverà a fare bene, proverà a trovare altri punti per questa corsa. Tra l'altro, ci ricorda il buon Tomberero. Pululu in tre partite ha fatto due triplette ed una doppietta. Wanderwort tra i pali che l'altra volta ci ha fatto dannare. Bongonda, un nostro grande, grande ex. Un alito davanti. Gank molto interessante come squadra. Facciamo attenzione. Buona partita. Non sottovalutiamo l'avversario. E cerchiamo di giocare più o meno come l'altra volta. Quindi, gestione. Inserimento negli spazi quando si può. C'è Pululu. In profondità l'ha visto o servito. Bravo la figna. Pululu. Cross in mezzo. McKennie. Stop. Destro. Wanderwort. In calcio d'angolo. Elcia. Che sì. Esposito. Bravo per Elcia Rawi. Visto dall'altra parte Pululu. Elcia Rawi l'ha visto. Pululu. L'appoggia in porta. Facile, facile. Per il Re Leone. 1-0. Segna sempre. Afimico Pululu in Champions League. 1-0. Giù il cappello. Poi ancora Lilgenk. Tre sorra. Da fuori. Audero. Poi Berna di testa. Prova a mettere fuori. Mamma mia. Dele. Rafinha. Pululu. E salta l'uomo. E darle in profondità per Pululu. Palletta perfetta. Pululu. Non deve sprecare. Pululu. Wanderwort con la suola. Con la suola l'ha presa. Ito al centro. Un al. Audero. E poi Bernardeschi mette via. McKennie di testa. Perché sì. E Venezia riparte. Mamma mia. Quanto è bella sta cosa. Esposito. E il Ceraui. Vai il Ceraui. Vai Faraone. Al centro c'è il Re Leone. E c'è anche Messias. Pululu. Destro. Mamma mia. Mamma mia. Ragazzi. Ragazzi. Afimico Pululu. Doveva andare sotto la curva degli ospiti. Ragazzi. 2 a 0. Il Messias. McKennie. Il Re Leone. Afimico Pululu. E il Farone. Il Ceraui. Ma McKennie si è proprio andato lì così. Per Esposito. Tocco sotto. Bello. Esposito mette giù. Prova a incrociare. Esposito. Traversa. Poi Bernardeschi. Ma dove è andato a saltare? Dove è andato a saltare? Federico. Bernardeschi. La chitarrina. Lava. Lava. Penso che si accontenti Pululu. Finisce qui. 3 a 0. Pulito. Preciso. Il Venezia. Conquista. Un posto negli ottavi di Champions League. Un'altra vittoria. Molto importante. Un'altra vittoria senza subire gol. E soprattutto un'altra partita in cui Pululu segna almeno due gol in Champions League. Dopo la vittoria in Champions League sguardo al campionato siamo primi con 22 punti pari della Juventus sotto l'Inter con 21 e l'Elas Verona con 21 sotto ancora l'Atalanta con 20. Sono tutte lì ragazzi. Sono tutte lì. Simuliamo però la gara contro il Bologna essendo una delle ultime arrivate della scorsa stagione. Simulazione veloce 1 a 1. Vasquez e Fofanà 1 a 1. Pareggio che in realtà può anche servirci. Ci fa un attimo respirare. Perché almeno poi c'è la pausa nelle nazionali. Anche la Juventus ha pareggiato. Bene. Offerta per Singo dal West Ham. Ma magari ci cascano. Trattiamo, trattiamo signora, trattiamo. Che? Non ci credo. 14,5. Affare fatto. 14,5 milioni. E l'West Ham si prende Singo. Offerta per il prestito di Busio. Dalla Samp. Accetterei l'offerta della Sampdoria. Prestito di 2 anni per Busio. Perché alla fine ragazzi mi spiace non usarlo. Perché usando McKennie e che siccome i titolari poi si alterano magari Ruskin e Fagioli che mi sta piacendo parecchio. Busio non è che non mi stia piacendo. Anzi. Però è quello che alla fine trova meno spazio. E mandarlo in prestito non è affatto male. Poi magari succede come con Ramadani che torna ed è tipo un più 10. E possiamo magari richiamarlo al prossimo anno. Intanto Singo venduto. Al West Ham ci entrano 12 milioni nelle casse a gennaio. Quindi ragazzi pare che ci siano cascati. Gara contro il trino ragazzi che ci giochiamo. Intanto Busio andrà in prestito alla Samp. Molto molto bene. Formazione abbastanza. Anzi formazione praticamente titolare. Voglio dare un'occhiata a una cosa. Adesso siamo primi con 23 punti. Sotto l'Ellas a 22 e l'Inter a 21. C'è Inter Napoli mi pare. Juve Verona. C'è Juve Verona ragazzi. Quella col Torino deve essere una partita molto importante. In Champions League siamo a 12. Ragazzi. Quindi col Borussia possiamo permetterci anche un mezzo turnover. E fare la formazione titolare contro il Torino. Onestamente. E ragazzi. Mi preoccupano le seconde. Perché? Perché i tanti. Tipo ad esempio qua c'è o Benfica o Salzburgo potenzialmente. Qua il Liverpool che mi preoccupa assai. Il Leverkusen. Il Villareal. Il Barcelli. Cioè di seconde sono tutte forti ragazzi. Capitan Izzo per il Torino. Torino che ospita il Venezia prima in classifica. Non riuscita tra i pali. Difesa tra i contà. White e Izzo. Difesa molto fisica. Molto forte. Colle di Madrovas. Linetti e Guevara. A centrocampo. Con Lucchinias e Mendes. Dietro l'unica punta che insegne. Un Torino in cerca di punti. Come così anche il Venezia. Perché il Venezia oggi gioca qui. All'Olimpico di Torino. Mentre dall'altra parte di Torino si gioca. Juventus contro Elas Verona. Una sorta di derby incrociato potenzialmente. Tra queste quattro squadre. Audero tra i pali. Difesa confermata con Lovato. Centrale questa volta. Bremer e Carboni a supporto. Centrocampo centrali. Abbiamo Cassi, McKennie a supporto Mbuku. E Aps sulle fasce. Kozlovski sulla tre quarti. Davanti. Afimico Pululu. Ed Esposito. Con Pululu che in campionato sta facendo fatica a trovare reti. E più un assist man. Per Sebastiano Esposito. In Champions League. Non lo ferma nessuno. Comincia Torino contro Venezia. Buona partita. E proviamo davvero a continuare come stiamo facendo ragazzi. Partita dell'ex. Per Bremer. Corteggiato da tantissime squadre. Era il Genk. L'ha tornato in Italia. L'ha fatto il Venezia. Sposando la causa di Mr. Mattox. Attenzione Esposito. Da solo Esposito. Sempre. Sebastiano Esposito. In campionato. Non lo ferma nessuno. 0-1. E timbra il cartellino anche quest'oggi. Pululu ha visto Esposito. Prova a servirlo. Vabbè il tocco sotto. Esposito. Da solo Esposito. Prova a piazzarla. Poi arriva. Da dietro. Mbuku. 0-2. E Venezia. Si dimostra sempre più in forma. Mamma mia ragazzi. Vorrei dirlo eh ma. Non lo dico. Ditelo voi nei commenti. Apps Esposito per Pululu. E da solo però anche Kozlovski. Visto Kozlovski. Centrale. Ah. Bravo Pululu. Pululu da solo. Pululu. 3-0. Affimico. Pululu. L'ho fatto McKennie. Pululu da fuori. A spazio. Ci prova. Alto sull'attraverso. Ha detto. Ma vai. Bravo Mbuku che salta. Johnny Ta. Sguardo al centro. C'è Pululu. Mbuku l'ha visto. Pululu. La finta. Mancino. Affimico. Pululu. Sempre lui. Sium. Mbuku. Pululu. Da solo. Salta un uomo. Ne salta un altro. Pululu da solo. Destro. 5-0. 5-0. Oggi il Torino non è sceso in campo. È sceso in campo. Un super. Super Venezia. Pululu in profondità verso Vasquez. Stop. Salta un uomo. Deve saltare ben White. Ci riesce in primis. Destro. Ma cosa sta succedendo ragazzi? 6-0. Vasquez. È quella partita. È quella partita ragazzi. Mendels. Attenzione da solo. Ho dovuto provare a chiuderlo. Ci riesce. Però poi torna indietro. Lì metti. Masuras. Mancino. Audero in calcio d'angolo. Ragazzi. Siamo sul 0-0. Io onestamente andrei direttamente al risultato. I cambi li abbiamo fatti. Finisce. 0-6. Forse è la nostra partita con più gol. Penso. Tra l'altro vince l'Ellas. 2-1. Nella parte forse è meglio. Perché comunque ci mette giù la Juve. Ci ringrazio Ambuku. Apprezzo il tuo impegno. Apprezzo il tuo impegno. Sono curioso però di vedere appunto se questa sia stata la nostra più grande vittoria. 6-0. Peggiore sconfitta contro l'Iventus. 6-1. Maggiore vittoria. 6-0 contro il Torino. Ragazzi. Tanto adesso Tom lo sappiamo che in 20 minuti prenderò 3 gol. Aggiornamenti degli osservatori. Abbiamo quello dall'Italia con Nicolas Guidi. Nicolas Guidi. Sembra interessante. Per il resto ben, ben, ben poco. Vincenzo Guidi, il fratello. Tra l'altro noi ne avevamo un Guidi da qualche parte. C'è Rinaldi ma poca roba. Sorrentino lo seguiamo ancora. Guido Santoro. Niente. Teniamoci questi due qua da seguire. Dove? Ah, il Genoa. Elia Guidi. Non scrivere mentre Nicolas Guidi. Negli States c'è questo Thomas Gray che ingaggiamo ma non sembra neanche troppo. Mason Gray, il fratello. Sono tutte e due Gray. E Will Morgan. No. Ragazzi, io il resto li rifiuterei onestamente. Mi manca quella carriera un giorno mentre ci ve la riguardo. Molto molto bene. Io tra l'altro col PC nuovo poi mi piacerebbe fare una cosa del genere. Ren Morita. Yamato Yoshida. Bah, Yamato Yoshida. Iroia. Okuma. Yutakaike. Kento Yoshitomi. Andrei a giocarmi la gara contro Borussia Dortmund. In realtà potremmo anche simularcela ma preferisco giocarmi ancora questa. Cercare almeno il pareggio. Ed essere poi sicuro per simulare poi la prossima e ultima partita del Genoa di Champions League contro il Nizza. Siamo primi, 12 punti, 4 su 4, 15 gol fatti, 6 subiti. Tutto merito del nostro afimico Pululu con 10 gol. Ci giochiamo Venezia contro Borussia Dortmund. Dopo vedremo anche la classifica della Serie A. Anche perché appunto andremo poi a chiudere l'episodio con quella. Giochiamoci la gara contro il Dortmund. Farò un po' di turnover, ve lo anticipo. Però non massivo ecco per evitare crolli. Ma ragazzi ve lo dico, ve lo dico, probabilmente perderemo. E anche tanto, io ve lo dico. Perché troppo scripta fuori nella scorsa partita, in questa ci picchieranno. Alan Vlaovic davanti, puoi capire. Preparo la formazione e ci vediamo in partita. The Champions ragazzi, The Champions, l'urlo del penzo per la gara di Champions League. Fra Venezia e Borussia Dortmund. Una delle squadre più grandi ospitate fin qui. Pomoma Midele, Davidoviz, Carboni, Eudero la difesa. Chessi, Fagioli, Bernadeschi, Elceraui, Rafinha a centrocampo. Afimico Pululu con Vasquez davanti. Un po' di turnover. Gioca qualcuno che magari in Champions League ha giocato un po' meno. In queste ultime partite ha trovato meno spazio. Sono ancora colpito dal riflesso della luce sulla testa di Chessi. E dal pallone dietro che svolazza lì. Tranquillo, tranquillo. Borussia Dortmund che invece schiera questa volta la copia d'attacco titolare. Raspadori in panchina. Davanti Vlaovic e Haaland a scendere. Reina, Gravenberge, Gimalesch e Pallini a centrocampo. In difesa Masraoui, Pavarl, Luis Felipe e Ache, Soria. Tra i pali per il Borussia Dortmund. Quinta giornata del giro di Champions League. Ci si gioca il primo posto per il Venezia. Buona partita. Vasquez. Vai Pululu. Vai Pululu, deve saltare Pavara. Pululu. La finta. Mancino! David Sorija in calcio d'angolo. I f***a. Oh, se prendo di nuovo gol. Eh. Bravo Carboni. Gravenberge. Vlaovic da solo. Vlaovic! Vlaovic! 0-1. Segna Duzan. Ce l'aspettavamo. Duzan Vlaovic 0-1. Borussia Dortmund deve cercare per forza la vittoria per provare a giocarsi ancora al primo posto del girone. Poi soprattutto ci sta il Borussia Dortmund. Voglia anche rifarsi dal risultato dell'andata. Un 5-1 abbastanza netto. Fagioli. Rafinha. Va da solo Rafinha. E serve in profondità Fimico. Vai Pululu contro Soria. Pululu contro Soria. Pululu! Quando sente il profumo della Champions League. Lui inizia a suonare. 1-1. Ancora una volta. Il Re Leone. Per Napolulu. Ce l'ha scattato. Anche Rafinha l'ha visto. Vai Pululu. Tocco per Rafinha. Al centro c'è Vasquez. Da solo Rafinha. Destro. Tira centrale però. Haaland. Vlaovic. Attenzione a Erling. Haaland. A fermarlo. A fermarlo. Calcio d'angolo. E il Charaoui. Prova. Il cross. Vasquez. Che tiro che ha fatto Vasquez. Vlaovic al centro. Chiude. Buoma mi dele. Bravo. Pululu Vasquez. Adesso è da solo lui. Vai Vasquez. Vai Mudo. Vai Vasquez. Vlaovic. Polentino. Aspetta rinforzi. Al centro. E il Charaoui. Soria. Poi mette giù Rafinha. Bernardeschi. La finta. Prova a saltare un uomo. A giro il mancino. Pululu. Vasquez. Soria. Giallo per Bernardeschi. Bravo che sì. Poi Cowell. Pululu. Vasquez. Aspetta lo scatto di Pululu. Ma per fischiare l'agresso un bucu. Vai in bucu che sei fresco. Vai in bucu che sei fresco. Sguardo al centro. Ci sono tutti. Il cross. E per Cowell. Ci mette la punta. Ma c'è Soria. Erling Haaland. In profondità per Vlaovic. Al centro. Chiude Carboni. In qualche modo. Poi Phillips. Haaland. Reus. Traversa. Omo. Bamidele. Pululu. Si deve girare in qualche modo. Salto no. Ma vai Pululu. Appoggia per Vasquez. L'azione definitiva di Vasquez. 2-1. Sfonda la bandierina. La Vespa. Vasquez. Lavic. Al centro. Deve chiudere Davidovic. La palla resta di Carboni. Poi Vasquez in qualche modo. Phillips. El Charawi. Cowell. El Charawi. Vasquez. Deve darla a Mbuku. Va in Mbuku. Da solo. Va in Mbuku. Va in Mbuku. Mbuku. Da solo. Mbuku. Mbuku. McKennie. Weston. McKennie. 3-1. È il primo posto. È blindato. Del giro nei Champions League. Mamma mia ragazzi. Lavic. Per Haaland. Largo. Il Gravenberg è da solo. Contro Mbuku. Mbuku. Sguardo al centro. Cevlavic. C'è Haaland. Cross. Oh mo. Ba Midele. Chiude. Poi Cowell. Mamma mia come l'aveva assaltato. Finisce qui. 3-1. 8 gol. Al Borussia Dortmund. Tra andate e ritorno. Il Venezia. Supera facilmente il girone di Champions League. Sembrava difficile. Sembrava. Non dico impossibile. Ma comunque. Una pratica non da sbrigare nelle prime 5 partite. 5 partite. 5 vittorie. Affimico Pululu. Golla. E assist. Oggi per lui. Oggi la partita in cui ha segnato meno. I nostri cuoricini. Pululu. Ha già vinto il pallone d'oro. Potrebbe davvero essere il suo anno. In campionato sta facendo un po' meno. Ragazzi. Mamma mia. 87. Raga. 87. Ho visto male. No. Non ho visto male. Pululu. Pululu ragazzi. Diventa un 87. Mamma mia. Che giocatore ragazzi. Che giocatore. Godiamocelo. Gustiamocelo. Crescita. Vieni qua. Fimico. Vieni qua. Vieni qua. 87 ragazzi. Dall'altro. Piano di grescita. Qualche piano di grescita magari. Boh. Questo qua. La velocità gli aumenta. Posizione attacco. Potenza tiro. Tiro dalla distanza. Va buone. Ragazzi. 118 milioni. Vale 118 milioni ragazzi. Da inizio anno si è fatto un più 4. E prende 5 mila di sviluppare. Prende 2 lire ragazzi. Prende 2 lire. Cioè penso sia uno di quelli meno pagati. E del capitano ragazzi. Abbiamo messo la causa della diventa di 1%. Però attenzione. Prendeva le 3. Mago Jones. Mamma ragazzi. Ma quanti ne ha fatti? 18 in 18. 18 in 18. Sarà una battaglia senza esclusione dei colpi. Per avere. Afimico Pululu. Con il pallone d'oro. E con la scarpa d'oro. In primis. Perché. Lui ne ha fatti 8. Anzi. Ne ha fatti 7 in 13. In campionato. Mentre. Gli restanti 11. Gli ha fatti in Champions League. Dobbiamo provare a farlo segnare un po' di più. Anche. Anche al. Al Venezia. Un certo Eduardo sarebbe stato al Venezia. Ragazzi. Mamma mia. Però. Intanto. Il Cagliari è decimo per adesso. 26 punti. E hanno 32 gol fatti. 21 subiti. Ne abbiamo sempre parecchi. Ma non siamo la difesa peggiore. In questo momento. Per adesso peggiore l'Atalanta. Tra i primi. E poi comunque ce ne sono di peggio. Siamo sempre tra quelli che dovremmo subire un po' meno. Però va bene così. Siamo primi. 26 punti. 25 Lellas. 23. Napoli. Juve e Atalanta. A 22 la Fiorentina. 21 Inter e Sassuolo. Ci sono tutte lì ragazzi. Campionato molto molto equilibrato. Nel prossimo episodio ci vedremo tutto a dicembre. Ve lo anticipo già. Ci giocheremo le gare contro Milan-Sassuolo. E Juventus probabilmente. Anche se da una parte mi piacerebbe giocarmi la gara contro il Nizza. Per continuare a far segnare Pululi in Champions League. Ho questo sogno. Però vedremo. Vedremo. Quest'anno deve essere coronato dallo scudetto. Esatto. Deve essere un po' il nostro obiettivo. Ora che siamo riusciti a decifrare un po' il gioco. Io spero veramente di poter trovare in qualche modo la vittoria. Tra l'altro nominesce il miglior giocatore del mese di novembre. Abbiamo Pululu ed Esposito. Vediamo se per una volta rodaranno almeno a Pululu. Anche solo a Esposito mi andrebbe bene. Ragazzi vi invito a seguirvi da tutti i link qui sotto in descrizione. Per le informazioni su Instagram e su Telegram. Per essere aggiornati con le live. Noi ci vediamo probabilmente martedì. Per la live dell'episodio di FIFA. Lunedì ho due esami. Quindi non riuscirò a essere in live. Vi farò comunque sapere qualcosa. Noi ci vediamo alla prossima. Sempre qui sul mio canale. Ragazzi un bacione. Un salutone davvero. Grazie del supporto. Venezia strai. Tra l'altro ecco tenete d'occhio Instagram e Telegram. Perché potrei uscire una live lunedì. Ma non lo so. Alla prossima. Un bacione. Un salutone. Ciao ragazzi.